Ben trovati da TG della mobilità. Stanotte dalle 22 alle 6 lavori di manutenzione nella galleria Giovanni XXIII tra Pineta Sacchetti e Foritalico in direzione Stadio Olimpico. I lavori sono previsti per altre due notti. A Mostacciano da domani lavori in piazza Beata Vergine del Carmelo. La linea 777 viaggerà in modalità circolare con capolinea unico in piazzale dell'agricoltura. E' sempre domani dalle 9 alle 13 in piazza dei Santi Apostoli manifestazione sindacale dei Vigili del Fuoco sul tema del potenziamento degli organici e rinnovo contrattuale. All'iniziativa è prevista la partecipazione di circa 300 persone. Dalle 6 scatteranno di vieti di sosta nella piazza, possibili rallentamenti alla viabilità in via Cesare Battisti e tutto per questo appuntamento con il TG della mobilità. Grazie a tutti.